Dunque mi chiamo Emiliana e sono dieci anni che vengo circa alla Mensa. Mi chiamo Albertina, sono venuta qui 17, 18 anni fa e sono ancora qui. Allora la mia esperienza nella Caritas, nella Mensa della Caritas è iniziata nel 95, alla fine di ottobre quando sono stato interpellato dal mio parroco che aveva bisogno di persone capaci di cucinare per aprire questa Mensa. Lo stare qui da ormai vent'anni è per me, è stato per me, è per me un vanto. La nostra realtà è presente a Viterbo ormai da tanto tempo e proprio quest'anno, l'ottobre festeggiamo i 20 anni di apertura di questa Mensa. Questo servizio è possibile grazie a un buon numero di volontari, complessivamente siamo circa 80. Certo, la parte principale di tutto il sostegno viene dalla Diocese, quindi dai fondi dell'8x1000, perché cucinando tutti i giorni, un primo, un secondo ed un contorno, quindi ci sono tante, tante necessità. Ci vengo volentieri, aiuto volentieri. E se gli posso fare un sorriso, qualche cosa, glielo faccio volentieri perché mi dà tanta gioia. Io vedo la gioia degli ospiti che hanno vengono a mangiare cose che ho cucinato io, quindi per me è un punto d'orgoglio, forse sarà presunzione, però a me fa piacere. So di aver dato tanto, ma di aver ricevuto cento volte di più, perché ecco, stare a contatto con coloro che soffrono è una cosa veramente che ti induce a dare non tanto di te stesso, ma tutto te stesso.